E' stato pubblicato nei giorni scorsi l'avviso pubblico per l'utilizzo delle palestre scolastiche in vista della stagione 2018-2019. Sei in tutto le palestre disponibili che potranno essere assegnate ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, federazioni sportive, istituzioni scolastiche, associazioni, comitati di quartiere e persone fisiche singole o aggregate in squadre occasionali. Le attività con la presenza di pubblico inoltre dovranno essere specificamente autorizzate dal Comune nel rispetto della normativa sulla sicurezza. La tariffa per tutti i destinatari è di 5 euro all'ora. La scadenza delle domande è fissata per il 12 settembre.